Basta andiamo a vedere il ritratto della mia anima gemella ragazzi Apriamo Ciao ragazze, ciao ragazzi Allora qualche giorno fa stavo scrollando su tiktok così completamente a caso Fino a quando vedo una ragazza che dice di aver acquistato su Etsy Il ritratto della sua anima gemella da una medium Che appunto vende questo tipo di ritratto su Etsy Questa ragazza su tiktok di cui non ricordo il nome ho cercato di trovare questo video Non riesco più a trovarlo quindi se qualcuno lo sa scrivetelo Lei però appunto nel video non l'ha fatto vedere il ritratto Ho detto solo di aver acquistato questa cosa Questa cosa mi ha incuriosito alla follia ragazzi Quindi sono andata subito su Etsy a cercare psychic drawing soulmate Ok quindi disegno psichico della mia anima gemella di una medium Ed effettivamente l'ho trovata È una o un medium penso una medium Che effettivamente dice di poter vedere la tua anima gemella Qual è il suo aspetto E te la disegna per la modica cifra di 47,93€ Ma è scontato al 50% e io ho pagato 23,97€ In realtà il prezzo è in dollari Ma appunto tramutato in euro fa queste cifre un pochino strane Quindi l'ho acquistato per 23,97€ E oggi ho visto mi è arrivata la mail Perché ti arriva via mail non via posta E oggi ho visto mi è arrivata la mail Che non ho aperto che voglio aprire con voi E dovrebbe esserci non solo il ritratto di questa mia anima gemella nella vita Che sono molto curiosa di vedere Ma anche una descrizione di questa persona Quando ho effettuato l'ordine ho dovuto inserire solo due cose La mia età ed il mio nome e cognome Quindi questo è tutto quello che sa questa medium di me Vediamo Sono emozionata ragazzi In realtà quello che penso io di queste cose Piccola parentesi è che probabilmente il 90% Io penso che esistano assolutamente persone Che hanno effettivamente questo tipo di poteri Però penso che in linea generale il 99% di quelli che si trovano su internet Che dicono di essere medium In realtà non lo siano Quindi però bisogna sempre dare assolutamente il beneficio del dubbio Quindi non siamo qui per giudicare ok Che sia vero o no Per me è super super intrigante sta cosa Non lo so mi incuriosisce troppo Quindi andiamo ad aprire la mail ragazzi Perché non vedevo l'ora di filmare questo video Come voglio andare ad aprire la mail Effettivamente è stata velocissima Ci ha messo un giorno Non potevo crederci neanch'io Allora vediamo che cosa mi scrive Wow Allora la mail è lunghissima Lunghi Ok ho visto il ritratto in basso Ok 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 Lo sono intravisto Lo sono intravisto Allora andiamo prima a leggere la mail Che appunto è lunghissima È in inglese Quindi vi faccio una traduzione rapida Allora mi sembra di primo acchitto Un testo abbastanza standard Che potrebbe essere benissimo un copia e incolla In realtà Però vediamo Allora mi dice Sono molto contenta di condividere con te La mia lettura media Com'è che si chiama Psychic reading in italiano Ok questa mia lettura La tua anima gemella ti sta aspettando Dietro l'angolo E forse già lo conosci Ok Finalmente sarà il tuo turno E incontrerai il tuo partner ideale E la tua vera anima gemella Ok La tua anima gemella Ti metterà il primo posto E farà di te Una vera priorità nella vita Questo è importante Perché il tuo partner nella vita Dovrebbe essere una persona Di cui tutti i fidi Sarà in grado di calmarti Quando sarai ansiosa O stanca Sarà una persona rilassata Anche in situazioni Di stress Beh Non mi sembra male come descrizione Però Abbastanza generica Cioè nel senso che sarebbe Applicabile Alla maggior parte Delle persone normali Ai non Casi umani Questo aiuterà I livelli di energia Ad essere bilanciati Tra di voi Ok Perché io in realtà Nelle situazioni di stress Vado fuori di testa Evidentemente Ok Poi Sarà un amante della natura Che ha Un legame speciale Con il suo Adorabile cagnolino Vabbè Questa è la prima cosa specifica Ma io non conosco nessuno Adesso fatemici pensare Un attimo Che abbia un cane Onestamente Praticamente Non conosco nessuno Che abbia un cane Quindi Non credo di conoscere Questa persona È cresciuto Tra gli animali Da quando era piccolo E ha un Modo Unico E molto compassionevole Di Relazionarsi Con loro E prendersi cura di loro Ok Bellissima sta cosa La tua anima gemella Ti renderà Ricca D'amore Ti adorerà Wow E saprà accompagnarti Negli alti e bassi Della vita Non sarà perfetto Perché nessuno di noi Lo è Vabbè ok Ma le sue imperfezioni E i suoi difetti Saranno cose Di cui Riuscirete a ridere assieme Beh bellissima Questa cosa Gli piacerà Gli piacerà Prendersi delle mini vacanze E passare del tempo Nella natura Lui è la tua anima gemella Perfetta E anche il tuo compagno di avventure Allo stesso tempo Beh sta cosa è bellissima Comunque Notiamo un attimino Come abbia menzionato Il fatto di prendere Tante piccole mini vacanze Perché io per lavoro Viaggio sempre Cioè Viaggiavo Quando il covid Non ci sarà più Speriamo presto Viaggerò E saranno E spesso sono appunto Viaggi comunque Non lunghissimi Quindi questa cosa Questa cosa un pochino Mi fa riflettere Poi La tua anima gemella Non scapperà Ai primi Segni Di Difficoltà Ma è un uomo Un uomo maturo Che sa quanto vali E quindi Nelle difficoltà Sarà felice Di praticamente Lavorarci con te Ok fantastico Tipo l'uomo ideale Praticamente Quest'uomo Vuole costruire Un futuro Per voi Entrambi Ok fantastico Non so cosa dire Sembra la descrizione Della persona perfetta Mi viene un po' il dubbio Che questa descrizione Della persona perfetta Sia copiata E incollata A tantissime persone Con solo Piccole modifiche Però onestamente Non si può mai sapere Certo che quella cosa Delle piccole vacanze Appunto un pochino Mi fa pensare Una delle cose Che più avrete in comune È l'amore Per la famiglia E per gli amici Bellissima questa cosa Ma abbastanza Diciamo anche questa Abbastanza applicabile A tutti Quando sarà ora I vostri due mondi Si fonderanno Assieme Perché è quello Che deve succedere La tua anima gemella È una persona È un keeper Praticamente Ok È un vero tesoro Che anche i più romantici Ti invidieranno Wow Mi sta dando giusto Un po' di false aspettative A sta cosa Perché adesso Se non trovo l'uomo Perfetto Praticamente Ok Non mi accontento Ok Allora Perfetto Poi mi dice Di tenere queste informazioni Per me E non condividerle Con nessuno Effettivamente non le sto condividendo Con nessuno Non c'è nessuno qua Cioè nel senso E poi ricordati Che la tua anima gemella Non è qualcuno Che ti completa Perché tu sei già Completa Di tuo Sei bellissima È amazing And beautiful E sono super emozionata Per il tuo incontro Con la tua anima gemella Perché lei Da quanto Da quello che ha potuto vedere Avremo un futuro Pieno di amore E risate Questa mi piace Questa cosa Più che Ovviamente un futuro d'amore Però anche il fatto Che ci siano le risate Perché secondo me È proprio una cosa Che non può mancare In un rapporto Cioè non può Non può mancare Il divertimento Cioè il divertirsi Con il proprio partner Ridere Scherzare Poi si firma Semplicemente Con artistic psychic Quindi Non abbiamo Nessun indizio Su Sul nome O neanche Sul sesso Di questa persona Ma io direi Adesso che sono Super curiosa Basta Andiamo a vedere Il ritratto Della mia anima gemella Ragazzi Andiamo Ok Beh Diciamo che non mi dispiacerebbe Se Sembra bellissimo Cioè una specie di Attore di Hollywood Non lo so Ma insomma Mica male Voglio dire Boh non lo so Vuoi che cosa sembra A me sembra bellissimo In realtà Non conosco Nessuno Che possa Assomigliare Oddio Voi conoscete Tanto della mia vita Quindi vi ho mai presentato Qualcuno che assomiglia A questa persona Secondo me no Onestamente Secondo me no Potrebbe assomigliare Un pochino a Neil Ma il naso È decisamente diverso E anche i capelli E la barba Grazie al cielo C'è un po' di barba Ma poca Devo dire che mi piace molto Esteticamente Peccato non sia colori Perché così potrei vedere Il colore dei capelli E degli occhi Secondo me Gli occhi sono chiari I capelli invece Mi sembrano più scuretti Così Ragazzi Mi dispiace Perché da una parte Speravo che fosse Una persona Che magari già Ho conosciuto Perché decisamente No sto pensando Perché la persona Che io Ho visto Diciamo Ultimamente Potrebbe quasi Assomigliargli Però No Perché ha anche messo Un po' di profilo Quindi I capelli Non hanno questo taglio Però per il resto Ma insomma Non lo so Non ne sono convinta Mi piace il fatto Che sia in giacca e cravatta Quindi molto elegante Spero non sia Un dettaglio Che ha buttato lì Ma che effettivamente L'abbia visto in giacca e cravatta Beh è un gran figo Cioè Diciamoci la verità È un gran figo Io adesso Quando lo vedrò Praticamente Saprò già riconoscere Quindi Sono curiosa Di sentire Che cosa ne pensate voi Se una persona Che avete mai visto Che io conosco Non mi sembra Onestamente Fatemi sapere Se pensate anche voi Che sia un gran figo Per quanto mi riguarda Appunto Penso sempre La stessa cosa Che la maggior parte Di quelli che Online dicono Di avere Dei poteri Particolari In realtà È raro Che sia vero Però appunto Non si sa mai Nella vita Io do a tutti Il beneficio Del dubbio E non posso Nascondervi Che Mi guarderò Un po' più attorno Se riesco A trovare Questa persona Da oggi in poi Perché no Perché no Aspetto Di vedere i vostri commenti Spero vi sia piaciuta Questa modalità Di video So che non è Una modalità di video È una cosa Che mi sono inventata Io ma ero Troppo curiosa Di provare A fare questa cosa Ragazzi Quindi fatemi sapere Se vi piace Come tipologia Potrei chiedere Ad altri medium Altre cose E potremmo farla Diventare tipo Una serie Non lo so Ditemi voi nei commenti Io vi mando Un bacio grandissimo Come sempre Vi abbraccio Venite qua Vi abbraccio Forte 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 E io vi aspetto Sempre puntuali Domani alle 17.30 Qua su youtube Ciao Ciao